Cesare Bassani, 55 anni, sposato con Cristina, tre figlie, tipografo, gestisce in centro città un negozio nato nel lontano 1955. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per tentare con tutte le armi democratiche a disposizione di rovesciare il degrado fisico, umano e culturale della nostra Carrara. Sogna con De Pasquale Sindaco che la nostra città possa finalmente tornare agli antichi fasti perché è davvero convinto che noi Carrarini in fondo ce lo meritiamo.